Da oltre 50 anni, nel cuore della splendida Verona, sorge il panificio Ambrosi, da sempre sinonimo di qualità e di rispetto della tradizione. L'azienda a conduzione familiare è impegnata nella produzione di ottimo pane prodotti secchi da forno e di dolci da ricorrenza, attraverso una lavorazione artigianale che si è mantenuta inalterata nel tempo e che accompagna l'intero ciclo produttivo. Il processo produttivo dei crostini avviene dalle prime ore del mattino. Lo start-up della produzione avviene con lo scarico della farina, che può essere di tre miscele diverse, a seconda del tipo di prodotto, nella macchina impastatrice alla quale si aggiunge acqua, lievito, sale e strutto vegetale, questi gli ingredienti per l'impasto. Terminata la lavorazione, viene poi scaricato su un bancone per essere tagliato in più blocchi. I pezzi di impasto vengono trasferiti in un cilindro, con una serie di rulli, che provvede a lisciarli. Una volta lisciata, la pasta è pronta per il taglio in filoncini. Questi vengono trasportati in apposite celle, in cui è presente un'elevata percentuale di umidità, che ne favorisce il processo di lievitazione. Ultimata la lievitazione, i filoncini vengono cotti nei forni ad una temperatura di circa 250 gradi per 15 minuti. Segue una fase di raffreddamento e riposo, che dura 24 ore. Successivamente vengono tagliati nella forma classica del crostino e fatti essiccare in appositi forni. Successivamente i crostini vengono distribuiti in altre aziende incaricate di ultimare il processo di produzione. In questa ditta vengono lavorati all'incirca 20 quintali la settimana di questi prodotti secchi. Diciamo che quella che è la parte notturna viene occupata da una produzione di pane che varia a seconda delle ordinazioni e può essere dagli 8 ai 10 quintali giornalieri. Qui in questo impianto si ha una produzione oraria che può variare da un quintale e mezzo l'ora fino a due quintali. Dipende naturalmente dal tipo di pane e dalla quantità richiesta. L'azienda si rivolge soprattutto al mercato locale per quanto riguarda il pane e sull'intero territorio nazionale per i prodotti secchi. Inoltre il panificio Ambrosi consente alla propria clientela di poter acquistare i suoi ottimi prodotti anche all'interno della rivendita aziendale. Rispetto della tradizione, utilizzo di materie di prima qualità, esperienza, professionalità e personale altamente qualificato, ma anche tanta passione e amore per il lavoro. Questi i punti di forza del panificio Ambrosi, una realtà aziendale divenuta eccellenza. Ambrosi 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 Ambrosi